buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde ultime indicazioni sulla compilazione della domanda per le gradatorie di istituto di terza fascia ata domanda numero 1 il servizio prestato come assistente amministrativo presso il ministero della cultura può essere dichiarato nel profilo di assistente amministrativo della scuola se il servizio prestato presso gli enti pubblici dunque le amministrazioni statali quindi anche quello prestato alle dipendenze del ministero della cultura deve essere dichiarato una sola volta per tutti i profili per cui si chiede o aggiornamento oppure in nuovo inserimento si dichiara nella sezione titoli di servizio indicando come tipologia del servizio amministrazioni statali barra enti locali specificando con codice descrizione l'istituzione dove è stato svolto il servizio e il profilo relativo domanda numero 2 come si fa a comprendere se una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è un titolo realmente valido per l'accesso ai vari profili ata ricordiamo che questo titolo per esempio vale per l'inserimento come accesso come diritto di accesso al profilo di assistente amministrativo per le gradatori di terza fasciata o anche come operatore scolastico oppure come assistente tecnico non vale questo titolo di accesso per collaboratore scolastico per il profilo di collaboratore scolastico comunque rispondiamo alla domanda come si fa a comprendere se questo certificazione una certificazione valida ai fini l'accesso alla per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende come testualmente riportato dalla dichiarazione congiunta numero 5 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 18 gennaio 2020 qua 24 in relazione all'articolo 59 comma 10 e all'allegato a del citato contratto la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che sarebbe a credia che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei tale certificazione deve essere registrata proprio la certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione gradatoria attestare il superamento di un test finale relativa all'acquisizione delle competenze informatiche richieste tra le quali conoscenza dei sistemi operativi di word processor di fogli elettronici e di gestione della posta elettronica dunque questo rende valido il certificato internazionale di alfabetizzazione digitale terza domanda quale vantaggio si potrebbe avere in caso di possesso di un titolo di preferenza nella compilazione della domanda sapete che c'è la sezione dedicata ai titoli di preferenza quale vantaggio si ha ad avere un titolo di preferenza dai titoli di preferenza sono elencati nella compilazione della domanda dalla lettera a fino alla lettera n dunque a b c d e f g h i l m ed n in ordine di importanza dunque la a è la più importante la n e la meno importante chi possiede la preferenza più alta a parità di punteggio passa avanti in gradatoria si intende a chi non possiede preferenze o se le possiede a una preferenza più bassa speriamo che le risposte alle vostre domande siano di utilità per la compilazione della domanda ricordiamo che si concluderà dunque sono le ultime battute la domanda si potrà presentare entro e non oltre il 28 di giugno venerdì 28 giugno per cui speriamo appunto che queste risposte vi possono essere utili seguiteci nei nostri canali e social facebook youtube perché andranno in onda ulteriori dirette rispetto dunque rispondiamo live alle vostre richieste per ampliare le domande che nella nostra rubrica noi a cui noi diamo risposta arrivederci a tutti grazie a tutti